I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un trentenne originario di Vallo della Lucania, residente a Castellabate, ma di fatto domiciliato ad Agropoli, poiché condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito nei confronti del giovane un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, che l'ha riconosciuto colpevole dei reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti commessi in quel territorio nell'anno 2017, condannandolo ad una pena di 4 anni ed 11 mesi di reclusione. L'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Vallo della Lucania.